Nel terzo incontro parleremo della diagnosi dei disturbi temporomandibolari in implantoprotesi. Gli obiettivi di questo incontro sono acquisire conoscenze sull'anamnesi e la compilazione della cartella neatologica, saper fare la diagnosi differenziale tra dolore articolare e dolore muscolare, conoscere le manovre di palpazione muscolare da effettuare durante la diagnosi, acquisire conoscenze sulla diagnosi radiologica dei disturbi temporomandibolari.